C'è una parte della storia nobile dell'Abruzzo nella mostra in esposizione al Padiglione Italia dell'Expo 2020 a Dubai. Nel segno della bellezza che unisce i popoli, le ceramiche di Castelli sono protagoniste della mostra dal titolo Abruzzo dal passato al futuro, l'arte nelle nostre mani organizzata e allestita dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio nelle province di Chiede e Pescara con il supporto della consorella delle province dell'Aquila di Teramo. La mostra di ceramica di Castelli cade in coincidenza della terza settimana di presenza dell'Abruzzo nel Padiglione Italia dopo quella dedicata all'agri-food e dopo che la mostra di arte orafa abruzzese nella prima settimana di febbraio ha visto la visita istituzionale del presidente della giunta regionale Marco Marsiglio. Quello che ha preso il via è un percorso che parte dal Cinquecento per arrivare alle produzioni moderne, un lungo racconto che testimonia la maestria delle famiglie di Castelli nella lavorazione della ceramica con punte altissime sul fronte della produzione e della qualità, con un inevitabile passaggio alla produzione moderna che porta con sé indissolubile il nome di Franco Summa, l'artista pescarese di fama internazionale che alle ceramiche di Castelli ha dedicato una parte importante della sua produzione culturale.